Quali saranno le priorità del semestre di presidenza? Le priorità saranno crescita e occupazione con vari strumenti che stiamo elaborando e stiamo per proporre ai nostri colleghi europei. Saranno ufficialmente proposti quando la presidenza italiana comincia il primo luglio. Il nuovo ruolo dell'Italia e dell'Europa favorirà la crescita e per questa via anche i conti pubblici. La riduzione delle tasse di cui i vantaggi si vedono in busta paga adesso è una riduzione strutturale, le misure strutturali saranno completate a partire dall'anno prossimo.